Io per me salì su un ritmo, ho sempre paura, paura dell'avversario, sempre, però sono molto fiducioso per tutto l'allenamento che ho fatto. Ci ho sempre dovuto paura dell'avversario, ho sempre avuto paura che mi potevo battere, che mi potevo miliare, però più sono ero speratore, più sono fiducioso. Tutto il tempo che mi sono allenato, ho pensato sempre che mi batti, mi sognavo la notte che mi batti, però sono sempre molto fiducioso in ogni allenamento. Mi mi ha dato una motivazione, mi ha dato di spingere, mi ha dato ancora di più, ma soprattutto quando sono ancora i due, sono molto fiducioso. E quando salgo sul ring, non ho paura di niente, soprattutto quando mi sono preparato bene, non ho paura di niente, sono il re, ma non escemo avanti.